2C Solution è una software house di Padova che si occupa di digital transformation fino dal 2005. Noi sviluppiamo soluzioni fondamentalmente per togliere la carta da tutti i processi aziendali, quindi parliamo di processi, parliamo di archiviazione a norme, firme digitali e quant'altro. Dal 2014 siamo un operatore accreditato sistema di interscambio per la trasmissione di fatture elettroniche e la ricezione e offriamo servizi ai nostri clienti tramite una nostra piattaforma in cloud appunto per la gestione delle fatture elettroniche e tutti i processi aziendali, compreso ovviamente la conservazione a norma. Cerved è una big data company da ancor prima che il termine diventasse così popolare e da sempre siamo attenti alle opportunità della digitalizzazione, per questo abbiamo visto immediatamente con favore la fatturazione elettronica che grazie alla standardizzazione dei flussi informativi sblocca del potenziale che è già a disposizione degli imprenditori. Per questo abbiamo collaborato con 2C per costruire un prodotto di valore che desse contenuto agli imprenditori. La fattura elettronica partita nel 2019 ha costretto passatemi il termine le aziende a cambiare i propri processi amministrativi generando appunto fatture con un tracciato standard legale che oltre a portare il vantaggio di dare la possibilità alle aziende di automatizzare i processi aziendali, ma di fatto sta generando nelle aziende un enorme mole di dati strutturati, in quanto a differenza di prima dove avevamo dei pdf o delle informazioni destrutturate la fattura elettronica ha portato ad avere appunto dei big data all'interno dell'azienda strutturati dove si possono creare oltre all'automazione dei processi, numerevoli servizi aggiuntivi che riguardano l'aggregazione di questi dati per esempio costruendo dei benchmark basati su le informazioni dei clienti piuttosto che dei fornitori piuttosto dei prodotti, strumenti e dati che erano disponibili solo a grosse aziende che investivano su sistemi di business intelligence la nostra proposizione è quella di dare la possibilità ad aziende anche meno strutturate più piccole la possibilità di avere dati strutturati e delle dashboard che forniscono informazioni aggiuntive sulla qualità dei loro clienti piuttosto alla qualità del loro credito. Il nostro servizio è fatto di due anime data quality e credit risk. Il primo permette in modo automatico di visualizzare gli errori presenti all'interno delle fatturazioni per cui informazioni relative alla regione sociale informazioni sullo stato delle imprese e quindi senza effort senza sforzo da parte del lettore propone quelli che sono gli errori da correggere all'interno del sistema di fatturazione. Il secondo invece credit risk anche questo è un'analisi completamente automatica che mette a disposizione dell'imprenditore una sintesi del suo portafoglio fatture quindi del suo rischio credito delle controparti per permettergli di approfondire dove ritiene opportuno le situazioni più critiche. La fatturazione aziendale ha portato la possibilità delle aziende ad automatizzare i processi ma soprattutto la possibilità di interagire con i dati all'interno delle fatture essendo strutturati con la possibilità di dare servizi aggiuntivi che riguardano l'aggregazione dei dati, la possibilità utilizzando dei data provider come Cerved di avere informazioni in tempo reale sulla qualità del credito ma soprattutto dare la possibilità di avere delle piattaforme per esempio di business intelligence oppure addirittura costruire servizi che si possono integrare con i servizi bancari per avere in tempo reale l'aggregazione e la possibilità di avere il dato sul pagamento o lanciare pagamenti, schedulare pagamenti direttamente sull'home banking, pensiamo con PSD2 e altri servizi innovativi che stanno nascendo in questi mesi e nei prossimi anni. Se si pensa che il 5% delle fatture viene scartato mensilmente dall'OSDI, questa è una statistica ufficiale proprio dell'Agenzia delle Entrate, il che vuol dire che in una percentuale non irrilevante delle operazioni di fatturazione, le imprese si trovano a dover fare delle modifiche quindi fare degli storni, fare delle note credito, insomma avere un processo operativo non irrilevante di correzione. Se noi riusciamo a anticipare questi errori e quindi poter correggere le fatture prima che queste siano emesse facciamo risparmiare del tempo e delle risorse agli imprenditori, quindi crediamo che questo servizio sia assolutamente utile e che quindi si debba considerare importante per l'impresa. Avere informazioni in tempo reale che riguardano i propri clienti, che riguarda oltre alla possibilità di avere la ragione sociale, i dati informativi dell'azienda cliente in maniera aggiornata ma pensiamo soprattutto avere dati in tempo reale della qualità dell'azienda nel senso se l'azienda è attiva se è in procedura, se è in qualsiasi stato che può generare problemi al nostro credito. La partnership con 2C Solution è nata dalla reciproca consapevolezza di poter dare valore ai clienti grazie a delle competenze completamente complementari, il nostro ruolo istituzionale di erogatore di informazioni commerciali e elaborazione sul rischio credito, mentre invece la competenza di hub tecnologico di 2C Solution. Queste due competenze assolutamente complementari hanno permesso di costruire un servizio di grande valore. Il Credit Risk intendiamo analizzare appunto la qualità e il rating del nostro cliente per avere un indicatore in tempo reale della qualità del nostro credito. Immaginate di avere in tempo reale una dashboard dove all'interno di questa dashboard voi avete sempre l'informazione di quant'è la qualità del vostro credito. quindi se voi avete un fatturato per esempio di 100 io tramite la dashboard che noi abbiamo sviluppato potete capire se per esempio il 20% il 10% di questo fatturato che voi avete sui vostri clienti è affidabile o non affidabile e quindi di conseguenza mettere in atto tutte quelle procedure politiche verso i clienti per aumentare questo livello di affidabilità del credito. Abbiamo sviluppato per questo modulo di Credit Risk e Data Quality un asset completamente nuovo di API che mettono a disposizione in forma assolutamente semplice per il lettore delle informazioni relative appunto al Credit Risk e Data Quality. Queste sono state implementate da 2C Solutions all'interno della piattaforma di fatturazione elettronica quindi per l'utente finale non c'è nessun tipo di complicazione basta aprire lo strumento che già utilizzava tutti i giorni e troverà questo contenuto informativo di grande valore aggiunto. I percorsi di digitalizzazione sicuramente portano efficienza all'interno dell'azienda quindi risparmio di tempo, la possibilità per gli amministrativi, i contabili di utilizzare il loro tempo su attività a valore aggiunto e la possibilità di velocizzare questi processi in maniera strutturata oltre ad avere informazioni in tempo reale appunto sulla qualità di credito, sul fatturato su qualsiasi altro tipo di dato che possiamo in qualche modo sfruttare all'interno di queste dashboard. I vantaggi crediamo che possono essere due fondamentalmente riduzione dei rischi e riduzione dei costi la riduzione dei rischi sta nella consapevolezza vedere quello che è il rischio credito del proprio portafoglio clienti in una forma automatica e sintetica permette all'imprenditore di concentrarsi su quello che è il suo business e approfondire e gestire questi rischi in modo consapevole la riduzione dei costi è un po' per quello che dicevo prima perché se io metto a disposizione uno strumento che anticipa gli errori evito di dover fare, di dover attivare quel processo operativo di correzione degli errori ex post quindi di fatture già emesse e quindi fondamentalmente emettere prima fatture già corrette. Grazie a tutti!